A conclusione dello scorso Consiglio Comunale di Castellabate, il consigliere Luigi Maurano fa il resoconto della seduta. Nel Consiglio Comunale è stato affidato alla Castellabate Servizi la pulizia dei locali e degli uffici comunali, scrive Maurano. Bisogna ricordare che questa società è stata costituita in nome dell'efficienza, cioè miglioramento dei servizi e dell'economicità, cioè riduzione dei costi. Il piano di impresa presentato oggi va nella direzione opposta. Infatti non c'è almeno sulla carta un miglioramento del servizio di pulizia, in quanto sono previste le stesse mansioni con la stessa tempistica contenute nel capitolato speciale d'appalto del 2014, a corredo dell'affidamento ad una ditta esterna e non c'è una riduzione dei costi. Anzi, nei prossimi cinque anni la spesa per questo servizio sarà di 153.839 euro a fronte dei 60.000 euro circa spesi nei precedenti cinque anni. Un aumento del 100% che non trova giustificazione neanche con nuovi locali da pulire, dei quali non si cita nemmeno la somma dei metri quadrati. Visto anche le ultime vicende sulla gestione del personale da parte della società partecipata, abbiamo proposto che per la selezione delle figure previste alla pulizia il punteggio più alto venga riservato al curriculum, all'ISE e alla situazione familiare e non alla prova pratica o al colloquio. Infatti dove c'è discrezionalità nella scelta c'è possibilità di infiltrazione politica. E' anche uscita poc'anzi una nota non veritiera che tende a minimizzare quanto segnalato in merito al mancato rispetto della graduatoria per il servizio di spazzamento. Si parla di soli 18 giorni mentre invece i documenti, che sono pronto anche domattina a rendere totalmente pubblici, parlano chiaro e dicono che è dal mese di giugno che è stato assunto chi non ne aveva i requisiti in base al punteggio e alla graduatoria. Il fango noi non lo gettiamo, anzi lo facciamo emergere, conclude il consigliere, e poi lo spaliamo per ridare una speranza ai tanti cittadini che sono rassegnati da questo tipo di gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Su questo argomento siamo pronti ad andare fino in fondo.